Siamo con Michele Canini al termine di Feralpisalo-Fermana 0-0, il primo punto però avete prodotto diverse occasioni, soprattutto nel secondo tempo si poteva pensare a qualcosa di più come la scorsa settimana col Monza dove è uscita una sconfitta anziché magari un punto. Sì, c'era un malico perché per la prestazione che abbiamo fatto i tre punti secondo me erano meritati. Sì, abbiamo creato diverse occasioni, è mancato il gol, però l'importante è aver svoltato il livello di prestazione rispetto a Monza dove avevamo proprio steccato l'approccio alla partita, quindi dobbiamo continuare su questo atteggiamento e di sicuro i risultati arriveranno, dobbiamo lavorare e ci attende a un campionato lungo. Una settimana di fatto per lavorare al prossimo impegno che sarà contro il Vicenza? Sì, con rinvio dalla partita abbiamo una settimana per lavorare che per noi è fondamentale e di sicuro ci faremo trovare al meglio perché vogliamo conquistare la prima vittoria in campionato e la vogliamo a tutti i costi.